salve a tutti buonasera rieccoci qua dopo la visione di a quiet place giorno 1 giorno 1 ve lo dì in inglese day one day one perché noi il day one ne abbiamo aspettati tanti di giochi console e rompono il day one non rompono il day one e rompono il cazzo qua hanno fatto un day one ciò vuol dire che è tutto l'inizio di tutto perché alla fine ci sono sempre chiesti io ho visto il primo quiet place e due non l'ho visto quindi non posso io posso fare il paragone col primo il primo non mi era dispiaciuto come film era un film diciamo basso budget pochi attori pochi esterni era tutto chiuso in questa fattoria perché i soldi erano pochi quindi si cercava di sfruttare quello che si aveva perché non sapeva che aveva successo invece poi avuto un boom di successi incredibile no e poi hanno fatto un seguito che io non ho visto l'idea anche buona no di questa cosa di stare in silenzio poi sono arrivate tante repliche tanti tanti film copiati da quiet place su netflix sono arrivati l'ultimo che vi consiglio non è male con nicolas cage arcadian che devono fare silenzio anche loro che ci sono queste creature hanno copiato cioè hanno fatto prendere un qualcosa che di innovativo diciamo nel loro piccolo hanno fatto un qualcosa che non c'è un cazzo di originale ma che comunque hanno copiato un po un po da io sono leggenda da altre cose che già c'erano scopiazzato ecco anche lui soltanto che hanno avuto fortuna che sono uscito in un momento che già siamo pieni di remecche di cose almeno questa è una cosa nuova fresca e cosa tutti sono chiesti da queste creature da dove arrivano chi sono chi non sono e loro si sono hanno pensato dice cazzo ora che abbiamo un budget più corposo cazzo perché facciamo un giorno uno che siamo a san francisco come se non mi sbaglio perché ho visto che era il ponte di blue green quello lì che è caduto un voglio di cazzate qua ci abbiamo anche due attori conosciuti ci abbiamo lupita quella di noi il protagonista di noi ci abbiamo l'attore di stranger things che fa lì metallaro che non mi ricordo come si chiama che io lo trovo un bravo attore anche lui e loro due si troveranno ma la trama è questa la vuole raccontare lei la trama tutto inizia che lei praticamente è in una casa di chiamiamola così per recupero ha avuto dei problemi c'è un tumore sta avendo un problema più con altre persone malate che si raccontano diciamo i loro problemi per far passare il tempo e si si questo diciamo infermiere amico li porta in teatro delle marionette a vedere questo spettacolo e incominciano a sentire ambulanze rumori fuori anche lei esce e le dice diciamo all'amico infermiere ora dobbiamo andare a prendere la pizza perché lui prima di partire gli aveva promesso che quando sarebbero rientrati prima in ospedale di chiamiamolo così di che andavano a prendere la pizza gli aveva promesso e lei dice no tu mi devi portare a prendere la pizza no dobbiamo rientrare perché mi hanno chiamato sta succedendo qualcosa in città dobbiamo rientrare e da qui e lei si incazza se ne va nel pullman da lì praticamente dopo appena dieci secondi inizia a cadere sta roba da cielo scoppia di tutto macchine pullman camion esplode tutto di tutto e si incominciano a vedere queste creature che al fine vengono sono alieni al fine abbiamo capito che sono alieni si sono degli alieni che poi si vedono in faccia e hanno proprio le sembianze di alieni che a qualsiasi minimo rumore loro escono fuori loro praticamente escono se ci sono gli elicotteri che passano a dire emergenza andate vicino l'acqua perché loro non sanno nuotare sì sì perché queste loro non sanno loro l'unica cosa che non sanno fare è nuotare ma sanno fare di tutto cioè se c'è un palazzo di 20 piani loro lo scalano in nanosecondo qua le creature diciamo ma lei era sempre convinta che voleva la pizza sì ma che poi noi stessi non lo spettatore ma scappa ma che cazzo pensi però poi alla fine capiremo il perché diciamo che è qualcosa di sentimentale non voglio fare spoiler una cosa bella toccante la cosa diciamo un senso ce l'aveva si incontra con questo si incontra proprio col personaggio di stanning chattings e che per niente lei vorrebbe rimanere da sola invece viene sempre seguita da lui cioè lui inizia a rompere le scale anche lui lo capisce comunque capisce che diciamo che ha bisogno e lui cioè lei capisce che lei ha bisogno di lui e lui ha bisogno di lei nel senso che lui si sente solo a paura si sente più coraggioso accanto a lei il film si parla poco posso dire una cosa dimmi c'è l'attore principale è il micio il micio è stato veramente il micio io l'ho amato è un gatto veramente intelligente e gatti uno dice sempre che gatti non so c'è super silenzioso gli aiutava sempre li portava dove dove dovevano andare gli guidava ecco era una guida sia per lei che poi l'ho diventato anche per lui sì sì bestiale è un gatto veramente allucinante lo voglio io voglio un gatto così non voglio il gatto rompi i coglioni tutto sommato mi è piaciuto perché appunto poi quando capisci i problemi quello che c'era non è un film eh sì non è un film perché tante persone dicono eh noioso si parla poco è vero ma Cristo Signore è normale che si parla poco ragazzi ci sono queste creature che uccidono se si fanno sentire si chiama pit place del terzo film della saga e già già sai cosa vai a vedere non è che stai andando a vedere un lady gaga che canta è normale che cioè se mi vado a vedere che ne so ultimamente abbiamo visto furiosa non è che lì ci aspettiamo inseguimenti e cose varie lo so come una tante persone si vanno a lamentare demand max che vanno a dire eh ma troppi inseguimenti in macchina ma se quello è nel deserto comunque sia io non so la gente che cosa cerca però a me sinceramente è piaciuto più del primo cioè il primo l'ho trovato più noioso perché era chiuso invece qua abbiamo molto più location ci fa vedere più la città e più la tensione alta perché sono in mezzo a fiumi di creature non sono isolati come questi qua nella fattoria io nel 2 non lo so che come dove siamo ambientati che cacchio fanno nel 2 non lo so allora diciamo che sono tutte e tre bei film ovviamente ragazzi a chi non è piaciuto il primo per come per le motivazioni che ha detto io non ha ma non ha senso andare a vedere il terzo il secondo a noi tutto sommato piace sì sì ma anche la regia la fotografia mi è piaciuto tutto cioè non ho niente da aggiungere anche gli attori sono stati bravi perché gli attori sono la cosa più importante in un film che ti deve diciamo intrattenere anche grazie agli attori come recitano ti devono dire un qualcosa ecco perché se l'attore ti sta sui coglioni e non sa recitare tu ti rompi anche i coglioni mentre lo vedi invece abbiamo visto già due attori che noi conoscevamo già niente senza togliere gli attori gli altri film il 2 non l'ho visto ripeto non posso parlare in quanto avrò possibilità ma non lo so tu ce l'hai il 2 sì casomai quando ci vediamo me lo presti me lo vedo e vi dico il parere del 2 niente ragazzuoli ha andato a vedere a cinema anzi qua qua guardate perché poi la gente dice perché poi non ha visto i shorts diciamo voi voi parlate che facciamo con le nazioni no no qua c'è guardate qua tutte e due qua ma non c'è bisogno devono prendersi sulla parola no perché poi dice ma tu sei sicuro hai ripreso la sala ma chi cazzo sei vai 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 ma che sale titoli di coda che cosa gli prendi il copyright youtube manca il copyright mi ha messo perché è durato così poco che manca il copyright tiente ragazzi c'è stato qualcuno che si è lamentato ma sempre si lamenterà qualcuno nella vita il mondo è così internet o non internet è questo qua la verità sono così bianco vicino a te e beh in confronto si dovevo mettere il tuo socio vicino a te lo vedrete lo vedrete c'è uno shortino poi risponderà guardate ragazzi noi vi ringraziamo se vi iscrivetevi al canale ragazzi manca poco arriviamo a 2000 a 2000 che vi faremo una bella sorpresa salvo lo esce cosa il portafoglio no su holyfans lo dili fuori si apre holyfans salvo salvo holyfans scrivete tag holyfans salvo salvo lo esce e tu che fai subisci che cazzo ti fa a parte le stronzate perché poi dilaghiamo su questo stronzate usciamo fuori pista lasciamo perdere ragazzi ciao grazie buona serata